Tuttavia, negli ultimi mesi, soprattutto ora che stiamo ampliando il team e quindi comincio a fare un lavoro sempre meno pratico e più concettuale, mi sono reso pronto che è necessario avere un momento in cui esci. In Messico si dice osservi meglio il giardino se sei sull'altro marciapiede o se vogliamo dirlo più volgarmente tutti vedono le ruote tranne il conducente. Quindi hai bisogno sempre di un momento. Io ho seguito il consiglio di Attilio e per me devo dire funziona la domenica. Questo vuol dire che, tra parentesi, prima di un mese fa tutti i ragazzi si facevano le call come me la domenica, da un mese li ho liberati da questo fardello. Però sì, ho visto sulla mia pelle, parlo anche per esperienza personale, che è importante avere un momento in cui esci, che ti aiuta anche poi a performare meglio durante il periodo in cui sei dentro. Non so risponderti invece sul fare vacanze, eccetera, perché non ne faccio, non so dire se funziona o no. Una cosa che puoi considerare, ecco, una cosa che a me ha aiutato un sacco la prima volta che l'ho fatta e lo aggiorno ogni tanto. Fatti una lista dei task a tutti, proprio anche nella vita personale, cioè da fare la spesa, vedrai che, uno, ci sono delle ripetizioni. E quindi cose che puoi accorpare nel salvi tempo, ma salvi tempo a volte magari di qualche ora al giorno. E due, puoi pensare a un certo punto chiaramente di trovare qualcuno che ti aiuta a fare questo. Tra parentesi, il qualcuno, la figura, ad esempio, della segretaria. Assume la segretaria nella nottura di pande, noi l'abbiamo assoluta una un paio di mesi fa. Ci aiuta, però ci sono altre considerazioni che magari se sei livello professionista singolo ti mettono un po' in difficoltà, diciamo così. Ci sono dei tool di intelligenza artificiale che ti aiutano ad amministrare, ad esempio che ti percompilano le fatture o che ti aiutano a organizzare il task appunto. Quindi ti consiglierei di esplorare quest'area anche. Guarda, io per esperienza, e parlo dall'esperienza di almeno quattro anni, dove io dal lunedì al sabato facevo dalle sette e mezza del mattino alle nove di sera ininterrotto, non mangiavo neanche. Da quando il mio lavoro è questo, nel senso dal 2020, quello che faccio io è sacrosanto la domenica. La domenica si è riposato Dio, se la Bibbia ha un fondo di verità, cazzarola, almeno la domenica fatemi riposare. Non sono Dio, ma almeno fatemi riposare. Prima di tutto ti devi proprio trovare, secondo me come fattiglio è la cosa migliore. Ti devi trovare un giorno in cui proprio ti isoli e il lavoro non esiste. Proprio non deve esistere. Perché se no vai col cervello in burnout, ma così proprio. Quindi un giorno, via. Proprio il lavoro non deve esistere. Quello che puoi fare anche è diminuire le tue ore di lavoro, ma questo lo fai non soltanto per tua sanità mentale, ma anche perché meno ore tu dai al tuo lavoro, più ti riempi e più sei desiderata. E più sei desiderata, più ti puoi far pagare. Insomma, è un circolo vizioso che ti aiuterà ad aumentare ancora di più le parcelle, eccetera, eccetera. Cioè, è una cosa positiva il fatto di essere piena tappo in questo momento per te, mi sa. Non è una cosa negativa. E devi saperlo sfruttare. Ma sai, il problema di noi liberi professionisti è questo, che dopo un po', quando ne riceviamo, siamo pieni a tappo. Io adesso sono pieno a tappo. Allora, io per esempio non ho quasi mai lavorato il sabato in vent'anni per fare le mie cose. Le fai anche la domenica. La domenica magari non le fai, ritmi bassi, recuperi veramente ore di sonno, cose del genere. Però magari il sabato, anche uscire, adesso mi metto un pochino nei tuoi panni, se sei un po' più giovane di me, uscire, lo shopping, eccetera, eccetera. Poi ci sono sempre in mezzo di compromessi. Quindi magari il sabato mattina puoi dedicare, puoi vedere dei pazienti senza che ti riempi a tappo il sabato. E un'altra cosa, in mezzo alla settimana, per esempio, puoi importi. Lo so, per allenarti ti ci vuole un'ora e mezza, due. Ok, ti imponi le due volte a settimana, per esempio, ti imponi che il martedì e giovedì alle 18 stacchi completamente. Però devi capire anche questo, a livello di, i tuoi livelli di energia. Se per esempio tu ci tieni tanto all'allenamento e alle 18 potresti potresti essere stanchissima, anche a livello energetico, perché t'hanno prosciugato un pochino i pazienti, quello che vuoi. E allora invertire il tutto. Quindi, non lo so, alle 7, alle 9 di mattina ti alleni, ti carichi pure. Eventualmente solo un po' di stanchezza fisica e poi partire lì fino alle 20, ok? Però quei due giorni, 2-3, poi ripeto, per me sono anche di più. Poi, io sono vincolato con i bambini adesso, quindi per gioco forse delle ore le devo dedicare a loro, perché adesso mi fa piacere pure accompagnarli a calcio, eccetera, eccetera. Diciamo, ho altre esigenze, no? Però ecco, questo qui lo puoi fare. Però te lo imponi proprio, prendi l'agenda settimanale e ti scarichi due giorni, su, ti bastano due giorni? Eh no, tu sbarra lì, tu lì sbaglio, sbarro. Quindi se io sbarro lì non ci posso scrivere sopra sull'agenda. Il cartaceo, io sono ancora il cartaceo, sono un boomer, quindi... Va bene, vedi come va, te lo devi... ma per te stessa e poi lavori meglio anche con i pazienti quando è così, eh? Perché non vai in frustrazione, non ti manca... non c'hai quella... 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 quell'ansia, no? Quello stress addosso. Hai fatto quello che devi fare per te, che poi per me può essere la famiglia e i bambini per te, anche l'allenamento pure per me, eh? Per te è l'allenamento, per quell'altro è, non lo so, ecco, il cane, eh? E poi ti dedichi a cannone meglio con i pazienti. Perché alzarsi alle 5 ti cambia la vita. È faticosissimo. Ci saranno dei momenti in cui vuoi prendere il telefono, la sveglia, quello che è, e lanciarla via, però ti cambia la vita. Cioè fai veramente il triplo. Qualunque cosa tu vuoi fare che non riesci a fare nella giornata, la fai. Ad esempio io per meditare, per visualizzare, per fare le mie affermazioni, eccetera, eccetera, non potrei farle in nessun altro momento se non dalle 5 alle 5 e mezza. Io la sera non riesco a leggere, ho il cervello che è andato, ho bisogno di farlo subito. Quindi dalle 5 e mezza alle 7 io leggo, dalle 7 alle 7 e mezza faccio colazione. Ecco, il segreto è anche, come ha detto giustamente Giovanni, avere tutto agendato. Anche i momenti in cui vai al cesso devono essere agendati anche quelli. E ogni cosa, ogni minima cosa, se agendata, io vi posso garantire che sarete più produttivi e vi posso garantire che la vostra memoria vi sembrerà una memoria da picco della mirandola. 5 e 5 e mezzo categorico e ci ho messo alcune scamotaglie che in realtà è valordissimo, si è pensato, però funziona da dio. Micro cazzate che però a forza di ancorarle a se le faccio bene, se non le faccio migliorare le palle tutto il giorno, ma tipo una scemenza. Mi metto a fare appena sveglio 100 squat così. Io so che se non li ho fatti quel giorno sono scazzato nero, quindi pur di sapere ok li hai fatti, è una scemenza fondamentalmente. Io mi sveglio 5 per essere a lavoro alle 8 e ho delle routine stane la mattina, come tommi meditazioni e cose varie, ma mettendoci dentro quel... Se so che a 20 minuti mi posso dare la scusa che non l'hai fatta, se so che è una cosa che mi chiede 3 e non l'ho fatta, dico mi chiede a scampirla. Io non posso suggerirvi dove il libro che Attilio mi ha regalato, perché me l'hai effettivamente regalato, però vi posso garantire che all'inizio è veramente faticoso e non ne capite il motivo. Proprio zero. Però poi andando in avanti dici, cazzo mi sono alzato alle 5 e posso fare 3.200 cose. E da quando mi alzo alle 5, io faccio dalle 5 alle 8 tutto, come dice Attilio in fisioluzione. Cambiare le nostre abitudini è la cosa essenziale. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che se voi, per esempio, io ero abituato ad alzarmi alle 8, quindi lui mi ha detto no, alzate alle 5. Ma se voi siete, per esempio, abituati ad alzarvi alle 6 o alle 5, potete tranquillamente switchare e alzarvi alle 9 o alle 10, per esempio. Cioè, è tutto il cambio di abitudini. Ad esempio, io non mi lavo più i denti con la mano sinistra, mi lavo i denti con la mano destra. Prima iniziavo sempre a lavarmi cella sinistra, anzi la cella destra e adesso inizio con la cella sinistra. Cioè, sono tutte abitudini che piano piano bisogna cambiare. Ok, oppure un'altra cosa, io ho lo studio che dista pochi passi da me, sono circa 500 metri, non di più. Io ogni giorno, per non abituarmi, faccio strade diverse, prendo vicoli diversi, sia all'andata che al ritorno, per non abituare la mente. Un'altra cosa che faccio è cambiare sempre bagnoschiuma quando mi faccio la doccia. Sono 300 cose piccolissime, ma che danno poi quel micro risultato. E scoprite, tra l'altro, che quando cambiate le vostre abitudini, molto spesso le cambiate meglio. E se per caso vi sentite in difficoltà, la cosa che vi può aiutare è avere l'obiettivo in testa. Se voi avete un desiderio, un obiettivo, o come dice il buon Napoleon Hill nel suo libro, un desiderio lancinante di avere un obiettivo, di avere un'idea, questo lo dovete tenere in mente perché sarà quell'obiettivo, sarà quel desiderio a far sì che tutto sia o diventi naturale. Poi, sempre un altro trucco che è scritto in uno dei libri che mi ha consigliato Attilio, è se voi fate fatica ad alzarvi la mattina presto, fate in questo modo la sera del giorno prima. Dovete assolutamente convincervi che le ore che dormirete saranno ore più che sufficienti per affrontare tutta la giornata successiva. Sembra una cagata, perché per me era una cagata, ve lo posso assicurare, eppure lo faccio tutte le sere e la mia ragazza crolla alle nove e mezza. Io sono ancora a mezzanotte qua che guardo la tv, quindi non è una cagata, assolutamente. E tra l'altro ho parlato con una delle più grandi esperte di qualità del sonno al mondo, è una dottoressa iraniana, che mi ha svelato una statistica che mai avrei pensato possibile, è che, contrariamente a quello che si può pensare, dormire più ore, cioè dormire dalle nove alle dodici ore, fa addirittura più male che dormire meno di sei ore. Quindi sperimentare il dormire meno di sei ore è assolutamente una cosa che lei mi ha detto, è una cosa fattibile e che sono in tante persone che lo fanno. Non soltanto per lavoro e non soltanto persone che ovviamente sono, ad esempio, penso, più sfortunati di noi, tipo operai che devono alzarsi alle quattro, andare in fabbrica, cioè sono proprio imprenditori che lo fanno. Fino a qualche mese fa io facevo il polifasico, per chi non vuole sa cos'è. Facevo il bifasico, due cicli da tre ore. Non sai quello del polifasico? Ho capito bene? Ah, ok. È essenzialmente dividere il sonno, qui c'è tutta una letteratura, è una scienza soprattutto molto interessante, si base essenzialmente sul fatto che la fase REM pare che sia l'unica realmente importante, ed è di due ore su ventiquattro. Questa è una cosa che già aveva cominciato a studiare Leonardo ai tempi suoi, tant'è che lui faceva quattro cicli da mezz'ora e lavorava poi tutto il giorno, capite? Poi perché aveva un po' del tempo per sviluppare la nuota, l'elicottero, perché aveva capito già lui che poteva spezzettare il sonno così. Io l'ho fatto per un anno, fino ad agosto di quest'anno, e devo dire che facevo due cicli da tre ore, distanziati di otto, quindi dormivo sei ore ogni ventiquattro, l'ho fatto per un anno continuativamente, e mi ha, come dire, non sentivo il peso del sonno che mi mancava. La premessa ovviamente è, ognuno faccia i suoi test, la cosa più importante, soprattutto a livello, non ho, parlavo molto baso di cambiamento, eccetera, fare dei test e vedere cosa funziona. Anche perché appunto ognuno ha il suo equilibrio, ognuno ha troppo un po' poi la sua quadra. Ha ragione Giovanni, ora, io posso essere anche stato un po' spartano nel raccontare questa cosa, però anch'io tuttora sono in fase di test. Io sto letteralmente testando e sto facendo degli incroci scientifici con le ricerche perché sto scoprendo che ci sono dei momenti in cui mi è letteralmente impossibile mantenere la mia routine. Proprio sono dei momenti in cui purtroppo devo ovviare in qualche altro modo. E quindi sto facendo degli esperimenti. Vediamo come va.